la capretta e la luna una storia vogliamo raccontare ma prima di cominciare vi presenteremo gli strani personaggi di questa storia fatta di pasticci e di viaggi c'era una volta una capretta a cui non bastava brucare l'erbetta ogni notte si arrampicava su un melo per studiare le stelle del cielo la sua mamma perché non si facesse male le regalò un bel canocchiale da allora la capra si dedica all'astronomia ed è la bestiola più felice che ci sia nel prato vicino vive una giraffa che da piccola ha bevuto dalla caraffa della fata generosità e da quel giorno è colma di bontà è un animale tanto gentile che ha aiutato anche il leone più ostile infine questa storia parla della luna quella tonda pigrona e della sua sfortuna è la notte delle stelle cadenti tutti gli animali ammirano le scie luminose nel cielo oh no che disastro la luna è precipitata sulla terra la luna disperata chiama a gran voce la capretta aiuto aiuto dice la luna capretta cara sono in un bel guaio guarda dove sono finita ecco forse la capretta ha avuto un'idea beh c'è bisogno del tuo aiuto giraffa la luna è precipitata la giraffa ce la mette tutta ma la luna è troppo pesante e non riesce a sollevarla ecco un'altra idea si potrebbe lanciarla con una fionda ci siamo quasi i due animali sistemano l'elastico tra due baobab ed ecco che la gigantesca fionda è pronta pronti al lancio missione compiuta la luna finalmente è tornata al suo posto tutto è bene quel che finisce bene grazie all'aiuto della capretta e della giraffa